Mi sono fatta dei regali di Natale su Shane Ciao a tutti e benvenuti qui sul mio canale Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Oggi location diversa perché siamo con l'invasore che si è invidiato delle cose che mi sono prese con Shane La roba bella, la roba bella Questo video è un video in collaborazione con Shane Nel senso che Shane mi ha dato un budget da spendere e io naturalmente ho acquistato cose di belle atti E quindi eccomi a condividerle con voi Tra l'altro molte di queste cosine le ho già provate e quindi posso dirvi esattamente cosa sono Questi sono i regali che ho scelto per me quest'anno Ho voluto fare, di solito io prendo cose da provare sul canale Invece questa volta ho voluto pensare a me stessa Cose che mi servivano per me Bene, basta parlare e cominciamo Come prima cosa, come vi ho suggerito nel video dei regali di Natale Mi sono comprata, ho comprato per me stessa una nuova confezione di penne Penne permanenti Questo è i vari tratti In varie misure Per disegnare ad inchiostro Per il draw ink Per i disegni a china Bellissime Queste penne, tra quelle di gamma media Sono tra le migliori Certo, poi ci sono anche quelle super top di gamma Che vi ho fatto vedere nel video dei regali Un pochettino più costosi Ma queste Ve le suggerite nei regali low cost Perché sono davvero ottime Poi voglio provare Questo non l'ho ancora provato Un acrilico Vi farò sapere com'è Questo è un colore acrilico blu Io ricordavo, a dire il vero Di avere preso tutti i colori Cioè il blu, il rosso, il giallo, il nero e il bianco Però forse qualcuno delle poste Però la busta mi è arrivata aperta e rimpacchettata Quindi secondo me a qualcuno gli è venuto il prurito alle manine E mi ha lasciato soltanto i primari, il bianco e il nero Mi ha lasciato solo il blu Tutti i bastardi No Lo proverò e vi farò sapere com'è Promesso Poi ho preso l'oro Devo dire la verità Questi un pochino mi hanno deluso Perché io me li immaginavo grandi così Ok Un rettangolo così E invece è arrivata la scatola di caramelle E invece è arrivata la scatola dei puffi Ma fa niente Perché sono 12 Per questo vi immaginavo una scatola grande Sono 12 colori che loro definiscono vintage In realtà sono 12 acquerelli Metallici Metallici Naturalmente i godè Sono della misura stand up Sono mezzi godè Io invece immaginavo fossero delle vaschette Non so perché Si apre a scorrimento Così E anche questi Non li ho ancora provati Quindi faremo un video E li proveremo Perché se sono buoni Io vi ho suggerito Un tipo super costoso Nel video dei regali di Natale Buonissimi Ma se questi sono buoni Ma se questi sono buoni Il risparmio sarà pazzesco Perché questa confezioncina qui costa solo 6 euro E per gli acquerelli metallizzati è veramente un'inezia Poi carta Ho voluto provare una carta da acquerello in fogli liberi Cioè non il blocco ma una carta E soprattutto ho voluto provare non una carta 100% cotone ma una carta di cellulosa Perché su Shane ho provato il 100% cotone ma non ho mai provato la cellulosa Questa è ottima sia per acquerello che anche per disegno E si chiama Paul Rubens Sì è comunque Paul Rubens Eccola qui Ed è molto molto carina Anche questa molto molto conveniente Bella grammata liscia come piace a me La proverò al più presto Ma avendola provata molto bene Ed avendola utilizzata per il corso di tecniche pittoriche di acquerello per tutto l'anno Ho fatto una mini scorta di blocchi Questi blocchi sono fantastici ragazzi Se cercate carta per acquerello tecniche umide sono meravigliosi A seconda del colore della copertina sono o lisci o ruvidi E a differenza delle carte che vendono nei negozi di belle arti Hanno un prezzo molto molto competitivo Sono 100% cotone acid free Trattati con materiali ottimi Tecniche miste di ogni tipo Bellissimi bellissimi Me li consigliamo E poi Dulcis in fundo Per questo vi dico E' un po' scarno questo haul Certo perché mancano tutti i tubetti Che si sono Bastardi Benciullati Allora ho preso questo Questo lo desideravo da una vita Lo vedevo e dicevo No sarà una bestialità Non me lo prendo No E poi E invece No E invece è bellissimo No è bellissimo Tra l'altro l'ho provato durante il corso di acquerello E ha una pigmentazione Stratatospedica Stratatospedica Ma voi direte Ma che cos'è una mazzetta pantone No No E' una confezione di acquerelli Qua c'è la spugnetta per scaricare il pennellino Qua c'è un pennello conservatoio molto carino E poi qua ci sono le palette No vabbè Allora si apre Palette dei gialli con campionatura Si apre Allora questa la togliete La rimettete dentro Palette dei giall'arancio Sì vabbè Palette dei rossi Altra palette dei rossi Magari se tolgo il dito davanti Voilà Altra palette dei verdi Altra palette dei verdi blu e dei blu Palette degli scuri Ma allora Ragazzi ha una pigmentazione Una brillantezza il colore Spettacolare Ah se posso? Sì Vediamo se riusciamo ad aprirla tutta Così Ah la vuoi aprire tutta? Eh sì Tu parla con loro Niente Ti fatti tuoi Questo quello che ho scelto come dono per me stessa Carte belle Acquerelli che sono risultati super Quelli Spero che anche quelli vintage Siano bellissimi E guardate Guardate quanti colori Insomma una palette così Costerebbe veramente tanto Con questa pigmentazione Invece qui Con poco Prendete spunto Per ulteriori regali di Natale E' bellissima E' bellissima E' bellissima Ti dico che è bellissima Sono super soddisfatta Anche il pennello conservatorio Cioè veramente Dovete portarli Cosa vi piace di più? Questo e questo E' andate Fantastico Fatemi sapere Che cosa vi piace di più Io spero di avervi dato Qualche spunto Per qualche ulteriore regalo di Natale Questi sono quelli che ho scelto per me Noi ci vediamo sempre qua Per un prossimo video creativo Da Ombretta Da Arte per te E dall'intruso è tutto Ci vediamo la prossima volta Ciao E condividete Vi voglio bene Grazie a tutti